Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, bentornati e ben ritrovati in questo nuovissimo video youtube allora oggi facciamo una cosa bellissima che mi piace tantissimo però prima voglio spiegarvi un po' la location di oggi perché diciamo che prima di fare i video mi metto un po' a preparare sempre il tutto ci tengo un sacco e quindi volevo spiegare velo le due carte una candelina bellissima che ora hanno acceso una candelina più piccolina molto più delicata ho aperto un attimo il cofanetto che secondo me era un po' più carina le nostre pietre di oggi che ora vado a spiegarvi tutto i bigliettini con i vostri segni zodiacali tre piccole confezioncine di tè che mi sembravano super cute e una rosa stabilizzata, statica, non mi ricordo bellissima però non so come mai non rende nel video tanto quanto è nella realtà non so come mai allora per oggi ho deciso di preparare questi mazzetti che sono come prime due pietre questa qui ora non mi viene in mente il nome ha un nome non voglio dire una caolata quindi non mi ricordo il nome però bellissima insieme all'ametista questa è una pietrina normalissima questa è how light azzurra cioè nel senso questa non è una pietra ecco acqua marina super bellissima insieme a una delle mie preferite che è il quarzo rosa bene allora dato che diciamo non volevo ehm dedicarci troppi video per fare questa cosa ho deciso di fare un video unico però ho voluto dare spazio a ciascuno di voi e qui in questi bigliettini casuali ho scritto tutti i vostri segni zodiacali quindi ora andrò a mescolarli e andrò a attribuire alle varie pietrine i vari segni zodiacali ok molto molto casualmente non so se tenere quest'ordine o spostarlo allora vediamo così e così non so se questi metterli di qua di questi di qua già forse mi piace di più non lo so allora uno due e tre primo mazzo secondo mazzo terzo mazzo io vi metto anche le pietre così vi possono aiutare andrò diamo i segni zodiacali sagittario così li vedete già leone comunque potreste eventualmente anche scegliere che sia il mazzetto in cui c'è il vostro segno zodiacale sia un altro mazzetto cioè se io sono leone aspetta ne metto un altro pesci se io sono leone però mi ha colpito anche questo mazzetto dove adesso tirerò anche le carte posso guardare sia questo che questo escludo questo eh nessuno dice nulla ariete vergine bilancia ok capricorno toro cancro mi sembra che riuscite a vederli bene ok gemelli scorpione e acquario quindi già avete una prima divisione nel primo mazzettino abbiamo capricorno ariete sagittario gemelli nel secondo scorpione toro leone vergine nel terzo mazzettino abbiamo acquario bilancia cancro e pesci adesso andremo a preparare anche le carte usando questi due mazzetti questo è un mazzetto di tarocchi per virgolette e queste invece sono le carte degli angeli quindi andiamo a vedere un po' i vari mazzetti e non so se fare la stesa con voi o no non vorrei annoiarvi adesso ci penso una vi spiego un attimo perché magari c'è anche qualcuno che vede questo video per la prima volta eccetera allora in questo caso vado a spiegarvi le previsioni per il mese di marzo e dato che non me la sentivo di fare una cosa troppo generica ho voluto aiutarvi un pochetto anche nella scelta e separare un po' con i segni zodiacali vi ricordo sempre la solita regola non ve la dirò nel resto del video potete se vi sentite attratti da tutti e tre i mazzetti ascoltare tutti e tre i mazzetti se non è così e questo lo saprete soltanto voi potete scegliere di guardare faccio un esempio io sono sagittario però mi ha colpito anche questo mazzetto magari ho l'ascendente faccio un esempio sono sagittario e ascendente pesci oppure sono solo sagittario però questo mazzetto non so perché la pietra non lo so mi ha colpito posso escludere questo ok perché ci può stare e ascoltare il mio mazzetto come punto chiave che è quello del sagittario e mettere in secondo piano questo ma ascoltarlo comunque perché il secondo andrà a spiegare meglio quello che ti viene detto qui tu hai capito eh o non lo escludi e ne ascolti due tra questi tre oppure molto semplicemente puoi fare queste due cose o scegli il mazzetto con il tuo segno zodiacale e anche l'ascendente te ne ascolti uno o due non so sei vergine ascendente a riet ti ascolti questi due sei capricorno ti ascolti questo cioè a scelta tua oppure lasci perdere i segni zodiacali e te ne ascolti uno tra questi tre basandoti solo sulle pietre sulle carte che vedi sotto sulle scritte sulle lettere sulle parole ok quindi fai la tua scelta e io andrò a spiegarli tutti e tre poi aspetto un tuo parere nei commenti ma voglio partire da questo mazzettino qua quindi abbiamo questa pietrina l'ametista eccolo e come segno di riferimento abbiamo il segno del cancro molto introverso ma profondo il segno dei pesci dove a volte magari possono sembrare molto spensirati ma hanno dentro di loro delle grandi emozioni l'acquario il segno più creativo dello zodiaco stupendo è il mio segno zodiacale e infine la bilancia un segno molto delicato ma molto intimo anche allo stesso tempo ok perfetto li vedete bene allora andiamo subito a vedere cosa cosa c'è per questo insomma per in questa stesa allora come prima carta la saggezza al contrario sempre al contrario la famiglia al contrario andiamo qui sempre al contrario il benessere al contrario sempre al contrario basta vedere l'uccellino bianco la creatività al contrario la fuga al contrario e poi abbiamo il corteggiamento e l'abbondanza ok vediamo di metterli qui ok allora ve li rileggo perché così magari avete un quadro un po' più chiaro la saggezza al contrario la famiglia al capovolto il benessere capovolto la creatività capovolta la fuga capovolta e per terminare il quadro il corteggiamento e l'abbondanza vediamo ora le carte queste qui aiuto degli angeli cosa ci dicono questa ve la posso confermare perché non importa però la posso confermare lasciati aiutare a riscoprire gli antichi misteri ok questa io la inserisco qui poi tempo di decisioni sei un operatore di luce mettiti al servizio della sorgente e agisci per un bene più grande smetti di procrastinare è giunto il tempo di fare la differenza nel mondo agisci ok questo lo vedete ok perfetto e infine è il momento di ricevere cioè adesso io non vorrei dire ma e voi sapete che io sono sempre molto pulita molto infinita abbondanza e qui c'è sempre l'abbondanza ok 888 da fonti conosciute e sconosciute sei una creatura divina sei ricca per diritto di nascita non scordarlo mai apri le braccia per ricevere allora queste sono un po' allora vediamo ok qui e questa me la metto dai qui così mi ricordo spero di ricordarla sempre se non cadia ok sì le ho messe un po' sprapagliate ma mi mi serviva un attimo per allora io non dico bugie e queste due carte non avevo ben capito se erano capovolte o no sicuramente si però erano un po' carte finali quindi viene riconfermata l'abbondanza quindi non so se interpretarle come due carte capovolte oppure no per il momento queste due le lascio così perché a volte magari sono io che mi scolo male ci sono le carte non dritte quindi nel senso allora qui abbiamo la saggezza capovolta quindi diciamo che tutte queste carte capovolte tranne la fuga sono tutte carte che comunque trasmettono un qualcosa di negativo un qualcosa un malessere vedi il benessere al contrario delle problematiche in famiglia una mancanza di idee cioè ci sono un po' di cose che non tornano e tu penso lo sappia già molto bene però tutto si chiude non bene perché non ti viene detto se si chiude tra virgolette bene o male ma ti viene detto che devi fare qualcosa per questa situazione l'uomo cambia solo nel momento in cui decide di cambiare una situazione o un qualcosa arriva nella tua vita solo se fai delle azioni diverse se mantieni tutto com'è riceverai tutto ciò che hai tuttora deve cambiare qualcosa o in te o nelle tue azioni allora c'è la saggezza capovolta quindi potresti avere sicuramente molta confusione dentro di te nella tua mente potrebbe essere delle insicurezze potresti avere delle difficoltà familiari questo è poco ma sicuro tutto ciò ti porta ad avere un malessere dentro di te potresti avere delle difficoltà o a scuola se vai a scuola o all'università o al lavoro perché la creatività io l'ho interpretata in ambito della nostra professione di quello che facciamo dalla mattina alla sera e capovolta significa che c'è qualcosa che non sta andando nel verso giusto infine c'è la fuga capovolta la fuga capovolta rappresenta è una specie di ritorno perché se fosse stata dritta andava ad indicare che tu vuoi scappare capovolta significa che comunque tu vuoi risolvere questa situazione infatti è una delle ultime carte uscite con queste due qui c'è un bell'uomo oddio bello anche no però c'è un uomo corteggiamento con tantissime rose sembra quasi caduto dal cielo o qualcuno che ritorna nella tua vita non mi viene da dire una donna perché cioè vedi e anche qui vedi l'abbondanza come se fosse pronta questa donna a ricevere questo uomo quindi potrebbe essere che durante il mese di marzo conosci un uomo o ritorna una vecchia conoscenza che potrebbe essere interessata a te che tu sia maschio o femmina questo non lo so me lo spiegherai tu e l'abbondanza ti sta a significare che se tu comunque in merito al discorso che ti ho fatto prima un minimo di azioni un minimo di intraprendenza ce la metti le cose potrebbero un po' tornare al suo posto e potresti ricevere tutto ciò che non non è arrivato precedentemente possiamo dire così infatti questa carta comunque te lo conferma cioè potrebbe essere potrebbe essere anche che arrivano nella tua vita persone situazioni o denaro inaspettato cose molto imprevedibili però devi essere libero cioè nel senso devi togliere tutte queste ragnatele che ci sono nella tua vita perché se no non funziona tutte queste cose capovolte rappresentano un grande caos io credo comunque che questo tu già lo sappia pesci cancro acquario bilancio sono quattro segni zodiacali completamente coscienti e consapevoli di ciò che accade loro che poi ognuno abbia il suo modo di interpretare agire nella vita sono d'accordo ma tutti e quattro sanno ciò che fanno hanno a momenti alterni però hanno la testa sulle spalle parlo comunque in prima passione perché io sono acquario quindi ricordatevi anche i numeri tutti tra l'altro tripli 3, 8 e 9 quindi provate a pensare se c'è una data se c'è qualcosa che vi può ricordare o collegare questi numeri finisco con queste due carte qui secondo me ti viene semplicemente detto di lasciare aperte le porte della tua vita cioè senti una specie di disagio provenire dal passato lascialo entrare dentro di te affrontalo c'è un qualcosa che non va attualmente ad oggi nel presente cerchiamo di capire cos'è ci sono delle paure verso il futuro affrontiamole quindi di non scappare infatti c'è questo contrasto tra scappo o non scappo con la fuga capovolta terminando con questa che è secondo me la carta che più rappresenta il tuo personalissimo mese di marzo ti spiego perché ti vengono fatti tutti i complimenti e non c'è bisogno che io te lo dica soprattutto per il cancro e per l'acquario però ti viene chiesto di vedi smetti quello che esattamente il discorso che vi avevo fatto prima sulle azioni l'uomo cambia solo quando decide di cambiare virgola le cose che arrivano nella tua vita cambiano solo quando fai delle azioni diverse se fai sempre le stesse cose otteni sempre lo stesso e agisci quindi questo è il messaggio per il mese di marzo per te ovviamente collegato a tutto quello di cui ti ho appena parlato per aiutarmi a capire se comunque anche io sto interpretando bene tutti questi messaggi fammi sapere se ti ritrovi o tu che hai scelto il mazzetto oppure cancro pesce acquario e bilancia fatemi sapere giù nei commenti lo chiedo per cortesia se vi ritrovate in questa stesa perché è molto importante per me e soprattutto nelle parole che ho detto quindi vi aspetto nei commenti fatemi sapere e adesso andiamo a vedere gli altri due mazzetti ciao per voi ho acceso anche la seconda candela pensate un po' allora acqua marina super per chi ha scelto questo mazzetto benvenuti e quarzo rosa la pietra dei sentimenti dell'affetto dell'amore allora andiamo a vedere anche i segni lasciamo qui c'è il capricorno il sagittario che sono anche abbastanza vicini e questi un po' più primaverili l'ariete tra un po' ci sarà l'ariete e i gemelli intorno a maggio giugno si vedono bene? ok perfetto queste le lasciamo per la fine andiamo a vedere invece qui le carte cosa ci dicono allora la prima è capovolta la forza capovolta quindi sicuramente fragilità o debolezza poi la maschera ok la curiosità previsioni marzo 2023 il caso guarda te che belle ok vediamo l'ultimo il successo mamma mia che belle il successo con questo cavallo tutto ricco di tutti questi ori questi ornamenti questa signora su questa mega poltrona tra l'altro sopra l'albero è tutto questo questi gingilli che scendono guarda che bella carta tra l'altro come ultima quindi cioè non lo so meglio di così però comunque voglio andare a vedere le altre due carte che ci aiutano e poi voglio capire un attimo cosa si intende per questa maschera che non mi è molto chiara allora la forza capovolta la maschera la curiosità il caso e il successo due fiducia interiore ok quindi apriti all'armonia interiore amma e lasciati amare non aver paura di prendere decisioni sagge direi che qui è perfetta io le metto vicino perché questa al centro rappresenta queste due ok una nuova vita che belle che bella stesa tra l'altro sono tutte che combaciano cioè vedete le carte non sono mai casuali io prima a telecamera spenta ho lanciato le carte e ho chiesto nello specifico di avere un messaggio una insomma una previsione per i tre mazzetti e non ho guardato nessuna carta io non ho programmato ho messo appositamente nulla fidatevi nascita di una nuova vita vedi tuffati buttati non aver paura spirito combattivo e direi assolutamente qui però non ci sta quindi ve la metto qui non volevo coprire la donna anzi qui che la vedete bene ok l'unica cosa prima di spiegarvi tutto e poi ci sono voglio capire un po' meglio cos'è questa maschera tanto che è solo una carta prendo tutto il mazzo eccolo qui e vado a mescolare allora cos'è questa maschera per il mazzetto quarzo rosa e acqua marina super sagittario capricorno gemelli ariete cos'è questa maschera eccola qua ok vediamo il fanciullo ok il fanciullo ok allora come avete non so se avete visto anche gli scorsi video comunque seguite un po' questo progetto e tutte queste cose che io faccio nelle carte e parto sempre da qui per arrivare qui come carta iniziale questa è un po' la fine non l'inizio e la fine del mese tutta la stesa riguarda a prescindere tutto il mese però si inizia così diciamo e si termina così e come prima carta hai la debolezza perché è la forza capovolta come ultima successo quindi cioè è già devo dire molto molto chiaro il messaggio per te rivolto al mese di marzo comunque sicuramente partiamo da uno squilibrio da molte fragilità da molte insicurezze da molte paure dissidi non riesco a capire però se sono rivolte verso il mondo esterno o verso te stesso o te stessa questo lo sai tu io non lo so la maschera vedi il fanciullo mi viene da pensare che hai un po' paura dimostrarti per come sei e provi molta tenerezza molto affetto per la tua persona che tu sia donna uomo bambina per la te donna per la te bambina o per te uomo diciamo per il tuo io bambino però è come se ci fosse una malinconia velata un po' di come quando diciamo togli il gesso hai tenuto il braccio fermo per un sacco di tempo e non sai se muoverlo se non muoverlo cosa fare non ti senti più nei tuoi panni ecco e qui il consiglio che ti viene dato è assolutamente questo numero uno numero due abbiamo il successo la fortuna cioè basta solo che tu ti affidi un po' abbia un po' di coraggio ok è come una specie di sprono per te questa stesa non te la rileggo ma insomma fiducia equilibrio armonia apriti ama e lasciati amare non aver paura di prendere decisioni sagge fiducia interiore cioè non sto qui a leggervi queste carte perché vi lascio sempre il tempo per leggerle quindi poi abbiamo come due carte centrali queste molto molto belle erano venute anche un paio di settimane fa insieme la curiosità il caso la fortuna quindi a volte non bisogna diciamo prevedere tutto sapere il perché di tutte le cose capire andare sempre a fondo a volte bisogna anche lasciarsi un po' trasportare e infine come due carte finali abbiamo queste due chiaramente il successo non te lo so qui a dire lo vedo molto come un qualcosa di personale e di autocelebrativo comunque e questo di buon auspicio e un saluto per te devo dire che marzo bellissimo a differenza di un altro mazzetto che ho spiegato prima che non era proprio così positivo per voi invece marzo sarà proprio nuova vita rivoluzione ma in realtà lo è per tutti i segni però c'è chi a volte deve risolvere dei conflitti dei dissapori interiori delle lacune provenienti dal passato capito quindi nuova vita nuovo progetto situazioni nuove però vedi sempre coraggio e forza e sicuramente siete quattro segni molto molto tenaci ma chiaramente tutti siamo umani quindi a volte ci lasciamo trasportare devo dire anche dalle fragilità bene questa è la mia stessa so che sono stata un po' sbrigativa un po' veloce però non ci sono nodi c'è tutto molto bello l'unica cosa facci con i piedi di piombo attenzione attenzione anche alla curiosità e al caso eccole qui perché comunque bisogna sempre tenere le antenne erette ok e sicuramente ci saranno dei risvolti super belli per il tuo mese di marzo anche per il tuo futuro come direbbe Riccardo Dose a sta la vista cioè nel senso attenzione un po' a tutto perché a volte quando tutto va bene va bene va bene poi si rischia di fare un piccolo scivolone e mi raccomando e andrei a aiutare a Nina anche un po' nel capire se tutto quello che vi sto spiegando cioè è molto importante per me fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi siete ritrovati e cosa ne pensate in merito a tutto ciò mi raccomando ci tengo un sacco che aspetto nei commenti grazie un saluto ragazzi e andiamo al prossimo mazzetto ciao ragazzi benvenuti nell'ultima stesa e adesso andiamo a vedere per le ultime quattro categorie quattro segni cosa ci aspetta ok allora abbiamo una pietra semplicemente decorativa e poi abbiamo how light azzurra bellissima bellissima non tutte le cionbelle escono col buco ciò non significa che non siano valide allora abbiamo leone e toro che già qui partiamo col botto vergine wow quattro testardi proprio abbiamo uno peggio dell'altro però vabbè dai sapete che sono un po' ironica e un po' no allora partiamo prima dalle carte dei trocchi e poi vi faccio vedere queste allora per vergine toro leone scorpione come sarà il mese di marzo 2023 i nemici che hai fatto partivo bene nel dire che siete testardi allora mettiamole un po' più così forse è già meglio per voi la volontà interessante l'aiuto capovolto però è uscito capovolto sempre capovolta la paura ok la strega la limitazione così ok si vede e per ultima il dono belle curiose mi piacciono vai adesso andiamo a vedere queste queste due carte chi ha l'udienza di parlare con te potresti sentire un'amorevole voce interiore un messaggio nella folla che sembra diretto proprio a te o una canzone che risponde alle tue preghiere si stare svegliando a non aver paura di ascoltarci interessante ti viene detto anche di ascoltare i tuoi cinque sensi in particolare quello dell'udito quello dell'ascolto quello della propria interiorità cosa dici ok quindi io la metto qui questa e vediamo l'ultima tutti e due proprio chiaro udienza e chiaroveggenza cioè tu dimmi se le carte non potevano essere più chiare di così comunque apriti alla visione il tuo dono guarda qui c'è anche qui il dono vedi di chiaroveggenza se stai svegliando non aver paura ti verrà mostrato solo ciò che sei pronto a vedere ok qui direi che è perfetta allora mentre i mazzetti che ho spiegato prima ti consiglio comunque di dare un'occhiata se in qualche modo ti potrebbe far piacere allora mentre i due mazzetti di prima erano abbastanza chiari cioè in uno e non vi dico quale perché potreste averne scelti due o addirittura tutti e tre quindi io vi consiglio comunque di buttare un occhio anche sulle due stese precedenti soprattutto se siete per esempio Vergine Ascendente X Toro Ascendente X Leone Ascendente X Scolpina Ascendente X fate a vedere precedentemente però mentre negli altri due mazzetti in uno c'era un caos una difficoltà ben evidente e nell'altro c'erano dei grandi traguardi delle grandi vittorie per questo vi dico essendo che questo è un 50 e 50 se sapete il vostro Ascendente andatevi a vedere o uno o l'altro di quelli che ho spiegato prima così fate un quadro completo qui abbiamo proprio un'instabilità come quando ti compri il gelato e cioè metà vaniglia metà cioccolato bisognerebbe mescolare bene tutto e andrà ad aggiustare ciò che c'è da aggiustare però però allora andiamo a vedere come sarà il tuo marzo 2023 innanzitutto ci sono i nemici ci sono due figure tre insomma quindi io penso sia una cosa rivolta sicuramente all'esterno con te stesso c'è la volontà quindi potrebbe essere parlo d'amicizia non so perché mi vedi nemici amici amici non so potrebbe essere che magari c'è qualcuno che ti ha voltato o ti volterà le spalle tu volevi risolvere una determinata situazione queste persone continuano comunque ad essere malefiche vedi qua la strega quindi io direi comunque di stare un po' attenti la volontà sicuramente ti fa onore cioè è una bella carta è una cosa anche positiva nei tuoi confronti perché significa che tu comunque volevi aggiustare volevi capire volevi però si vede che questa cosa non è reciproca o non lo so c'è l'aiuto capovolto quindi o tu che non vuoi aiuto o gli altri appunto questi nemici che non vogliono aiuto o tu che non riesci ad aiutare qualcuno non lo so la paura capovolta quindi viene un po' riconfermata la volontà il tuo senso di voler esserci voler avere una presenza voler portare avanti una certa nobiltà una certa dignità un certo valore però poi abbiamo la strega che comunque vedi sono tutte alternate i nemici con la volontà l'aiuto con la sicurezza cioè non vuoi aiuto ma però sei comunque una persona sicura o comunque sa ciò che vuole l'ho detto aprendo in maniera ironica con quei quattro forbetti lì del leone torovergine e scorpione la strega è sempre una carta che ti va un po' buttare un po' di prezzemolo in giro ma sta a te poi cogliere i vari attimi il consiglio che ti viene dato in merito a tutto ciò innanzitutto è questo però io te l'ho giuletto non te lo ripeto ma stai attento perché potresti essere proprio tu la soluzione di tutto ciò che ti potrebbe capitare o magari semplicemente stai attento sentiti ossia estraneo a delle persone a delle situazioni e potresti già risolvere molto molto beatamente molto chiaramente tutto ciò così perché tu hai i mezzi gli strumenti per capire valutare interpretare ma magari un po' non vuoi l'aiuto un po' non ti lasci trasportare un po' ci sono questi nemici questa strega un po' tante cose ciccicocò di qua di là va tutto un po' insomma dove deve andare concludo con le ultime tre carte che c'erano per te e comunque ti ricordo tra l'altro intanto i due numeri uno e sei oppure triplicati quindi anche il tre poi queste due chiara udienza e chiara veggenza sono due doti due qualità due due essenze che non tutti hanno e come carte degli angeli in questa stesa c'erano soltanto queste due capito quindi vedi che la tua persona è proprio importante per questo percorso che farai a marzo però io poi non è che voglio dirti tutto perché voglio che un po' ci arrivi tu abbiamo come prima Saturno la limitazione quindi comunque potresti avere ancora qualcosa di un po' il risolto perché Saturno è sempre un po' una rognetta però è bello però è brutto non si sa mai vedi limitazione non vuoi l'aiuto ricordati di queste tue due chiara udienza e veggenza rileggitele poi te le lascio qui così puoi farti lo screenshot la strega insomma attenzione perché potresti magari autolimitarti aiuto vedi come vuole lasciare spazio a questa potresti essere tu che ti autolimiti o che non non sai ben distinguere toro leone scorpione vergine sono quattro segni forti non cambia l'idea quindi attento ok ti ho detto antenne non so se l'ho detto in questo mazzetto o in un altro comunque andatevi a vedere perché vi chiariscono sempre se avete scelto due o addirittura tre mazzetti andate ad ascoltarli e infine il dono ma il dono proprio potresti essere tu cioè potrebbe essere che c'è qualcosa di nascosto in te questo non lo so stai ben attento ok però cioè io ci vedo un po' di un po' di brodo un po' di minestrone un po' di sale un po' di pepe ma poi alla fine è tutto buono cioè io non vedo qualcosa di così negativo il mazzetto più forte c'era prima era uno dei due precedenti questo l'ho detto ce n'era uno bello uno meno bello e questo che è una via di mezzo però vi consiglio comunque di andare ad ascoltare anche gli altri però ti ho detto qui non c'è una risposta come in un altro quindi vai proprio ad ascoltarteli anche in un altro mazzetto prima avevo detto questa cosa non c'è un esito per il mese di marzo tipo sarà un mese bello un mese meno bello devi essere tu a scoprirlo io non vedo un risultato ma tu che vai ad affrontare varie cose comunque come vi dico sempre per cortesia fatemi poi sapere giù nei commenti se vi siete ritrovati in ciò che ho detto oppure è stato tutto un po' estraneo per voi ma fatemelo sapere perché comunque per me è importantissimo in quanto io devo capire se ciò di cui parlo racconto voi vi sentite vi ritrovate in ciò che dico oppure no quindi mi raccomando per cortesia e aspetto un vostro feedback giù nei commenti potete anche dirmi ho scelto questo mazzetto quel mazzetto mi sono ritrovato no io avevo scelto due un mazzetto mi ho spiegato io sono toro io sono acquario io sono capricorno io sono cancro è vergin è tutto bene io sono pesci insomma vi aspetto nei commenti per cortesia ragazzi fatemi questo dono questo regalo anche a me come io lo faccio dedicando del tempo a voi e fatemi sapere nei commenti un bacione ciao